allora il mio video adesso è in diretta vediamo se ci riusciamo eccoci buona domenica a tutti ragazze e ragazzi e chiunque sia presente in questa diretta allora ancora nessun occhiolino intanto aspetto che questa famiglia mi accolga nella diretta io ringrazio sempre Gaetano e tutti i collaboratori che ci aiutano ad essere qui presenti e a facciarci con voi questa domenica d'estate io ho sempre la domenica da me eccoci passiamo in diretta da me sono le 19 invece da voi sono le 2 del pomeriggio qualche minutino prima mi connetto vediamo un po' dove mi portate oggi sia al mare, in campagna o se qualcuno invece come ho sentito che fa tanto caldo rimane a casa al fresco e quindi mi porta nella sua sala nel suo comodo divano allora eccovi siete già arrivate arrivate tutte Anna Maria ciao Paola noi abbiamo un appuntamento ricordati che quando vuoi ci sono per te allora siete arrivati come messaggi tutti in una volta quindi buona domenica ciao Lucia ciao Donatella ciao Simona Carmela Laura Anna Maria Sonia Sonia che bello grazie di essere qua speriamo che mi sentiate bene e che funzioni tutto bene oggi perché io ultimamente ho un po' a che fare con queste dirette chissà se oggi potrei avere una lettura buona giornata Maria Rosa sì magari un attimino che aspettiamo che vi connettiate un po' tutti insieme quanti codicini e poi risponderò oggi insomma vedo che d'estate avete allentato un po' la presa io sono contenta molto contenta perché se non siete qua vuol dire che comunque è il vostro periodo sta andando bene quindi non avete bisogno del nostro aiuto d'estate e poi comunque insomma il sole il caldo ci mette uno ci dovrebbe mettere in uno stato emozionale al positivo quindi è ovvio che magari ci sentiamo un pochino meglio più sollevati più leggeri e poi usciamo quindi vediamo gente facciamo cose quindi buona domenica a tutti e buona domenica a tutto il team di Bridge of Light che ci permette di fare questi incontri oltre oceano perché come sapete io sono a Pukete allora Cristina Mereo buona domenica Giuseppina come sta come stai la mia anima come posso fare per aiutarla grazie Giuseppina Caruso adesso poche bando alle chiacchiere e iniziamo Simona sì ciao Mary Gabriella di Lulis ciao piacere è un po' che non ti sento ciao Mary mi dirai cosa succede nella mia anima tanto sofferente allora intanto vi dico che ormai magari lo sapete già prima prendevo le vostre domande e poi vi rispondevo tutte in una volta invece adesso ho sperimentato un'altra cosa insomma vi prendo a random però dovete anche cioè dovete sapere che oggi questi messaggi mi arrivano un po' così a sprazzi ultimamente ho il mio messagger ho un po' facebook fai capricci ciao buon'uomo Maria ti porti in Argentina con me spero che tu stia bene lì e che tu possa essere tornata un po' fare quattro passi e a sentirti più libera e non chiusa in una stanza ciao Elena Brazzale buongiorno quanti siete grazie grazie di essere qua sono sempre emozionata di averli non ho bisogno della vostra data di nascita piccolo anteprima diciamo in tre per spiegarvi un po' di cosa parliamo se magari qualcuno non mi conosce possiamo parlare di reincarnazione quindi poi di nascita traumi risolto che ci portiamo dietro dna energetico trasferito dai nostri genitori quindi emozioni che ci trasferiscono no un po' con io lo chiamo dna energetico con i loro tratti con il loro dna energetico che non ci appartengono quindi emozioni e ricordi anche emozionali strutture che possiamo andare a modificare o a eliminare quindi poi abbiamo la crescita comunichiamo con la nostra anima e anima ci può parlare proprio di queste cose della crescita quindi condizionamenti culturali senso di appartenenza lo leggo perché sono così tanti gli argomenti che noi possiamo trattare e chiedere ad anima che non è non si limita solo al messaggio Rosaria Dea ciao Mary ti vedo benissimo volevo chiederti perché mia figlia Sara ha un grosso blocco non riesce a partire nel senso allontanarsi da me anche per andare in vacanza cosa succede caspiterina Rosanna adesso ti blocco qua vediamo se riesco un attimino che spiego che cosa potete che argomenti possiamo trattare con la vostra anima affinché voi possiate allargare il campo delle vostre richieste non solo un messaggino o qualche cosa un pochino di leggero ma possiamo andare nel profondo e modificarlo perché lo facciamo anche in diretta quindi traumi emozionali vissuti accantonati dalla mente tutto ciò che ci trasferisce la famiglia quindi gratificazioni o no emozioni rapporti no proprio i primi amori sono i nostri genitori quindi che rapporto e che cosa è accaduto nella nostra infanzia quindi proiezioni anche delle loro aspettative su di noi l'indifferenza a volte portiamo dietro armonia o aggressività empatia amore tanto va bene ho visto e sento e percepisco che non vedete l'ora che inizio è vero un'ora passa veloce quindi iniziamo allora come vi ho detto i vostri messaggi mi arrivano a blocchi quindi adesso io intanto inizio con Rosanna De Andres perché parliamo anche se la mamma mi ha chiesto della figlia perché ovviamente la mamma ha una connessione molto importante con la figlia c'è proprio una connessione non solo di sangue ma energetico umbilicale quindi può chiedere possiamo tramite la mamma Rosanna che fa da ponte raggiungere la figlia Sara in questo caso ha un grosso non riesce a partire nel senso allontanarsi da me anche per andare in vacanza cosa succede allora Rosanna De Andres vediamo un po' che cosa sta succedendo a Sara grazie che mi dici che mi vedi benissimo e mi senti benissimo iniziamo quindi non andate via perché adesso appena ho risposto a Rosanna prendiamo anche altre domande a random come mi ha imparato Katia San che si dice allora senti Sara è in uno stato profondo di protezione nei tuoi confronti Rosanna probabilmente dovremmo proprio andare a vedere che cosa è accaduto nel momento della sua infanzia mi porta ai momenti di 4-5 anni è come se lei gira intorno a te dovesse proteggerti quindi Rosanna diciamo che il pensiero di Sara che o ti lascia in solitudine mi fa vedere che lei è protettiva nei tuoi confronti quindi non è una cosa che riguarda lei non è chiusa nella sua timidezza o nella sua non voglia di vivere è come se lei avesse timore che allontanandosi da te possa succederti qualcosa non crearti dolore questo stato questo stato emozionale è stato innescato in un in un episodio di quando lei era piccolina ma guarda adesso io non posso non vado nel profondo perché siete in tante qui e non riesco ad andare così ma pensa anche semplicemente che possa averti visto cadere per le scale faccio un esempio no non deve non deve essere un momento importante o eclatante però lei da quel momento ha come un senso di protezione nei tuoi confronti e quindi ovviamente non l'ha elaborato non è una sensazione sua quindi non riesce ad elaborarla ha dentro di sé questa emozione che non comprende da dove viene perché lo ha vissuto in un momento dell'infanzia molto piccola veramente e quindi non se ne rende conto adesso però facciamo così Rosanna vorrei poi magari mi dirai se ti ricordi un episodio che può averla messa in questa condizione di protezione nei tuoi confronti allora facciamo così chiamiamo Sara mettiamola anche come con te in una sfera energetica di protezione e vi facciamo comunicare in eterico Rosanna affinché tu possa trasferirti energeticamente trasferirle energeticamente pancia con la pancia questa connessione di DNA nel terzo chakra che avete madre e figlia e comunicarle invece che tu stai bene che tu sei una donna forte che non hai bisogno di protezione anche se è molto gratificante per te sapere che lei si preoccupa però dobbiamo ridare i ruoli Rosanna ruolo a Sara di figlia e a te di madre quindi come sappiamo le madri si preoccupano per i figli e Sara come figlia si preoccupa di vivere quindi di crescere sicuramente guardando indietro quindi la facciamo uscire dalla porta con questa serenità potrà vedere che tu sarai lì a proteggere lei e non viceversa diamo quindi proprio questi ruoli chiamiamo anche papà e chiamiamo anche nonna e nonno diciamo i punti cardinali della famiglia rimettendo ognuno al posto loro Sara se ne sta ne sta prendendo consapevolezza sta modificando come a risvegliarsi da questo stato ipnotico quindi di chiusura con leggerezza e libertà inizierà a modificare il suo sentire a sentirsi serena e quindi ad allacciarsi al mondo esterno a riattivare se stessa grazie Rosanna poi mi dirai speriamo insomma non speriamo spero che ti senti a fine con le cose dette magari torna un po' dietro nel passato e questo dei ruoli è molto importante che tu possa ridefinirli in casa non la vedo in sofferenza o che è successo qualcosa all'esterno che lei non voglia raccontarti ma aveva questo blocco che non le apparteneva non ricordava perché noi a volte quando capita di vivere dei momenti in episodi in episodi che siamo molto piccoli non ne ricordiamo quindi lo aveva dentro e non riusciva sicuramente ad elaborarlo poi mi dirai se mi nasce scritto un feedback mi farà piacere niente date perché non ho bisogno andiamo avanti ecco sto girando Anna Maria di Napoli la mia anima credo sia soffrendo tanto all'improvviso tanti problemi di salute tutto sballato Anna Maria di Napoli allora sì hai ragione sicuramente perché quando l'anima soffre c'è una comunicazione cellulare e diciamo che esplode questo caos a volte un caos è un pochino più diciamo particolare più profondo alcuno invece è un po' leggero senti Anna Maria in realtà quello che vedo nella tua anima è che lei intanto ha delle scarpe molto grosse come se camminasse pesantemente ma una cosa particolare Anna Maria che la tua anima mi arriva che cammina con queste scarpe pesanti indietro cioè nel passato è come se inconsapevolmente o consapevolmente smettendo di fare progetti per il tuo futuro e rimuginando un po' troppo il passato è come se fossi entrata in uno stato di stallo la sofferenza ci sono sensi di colpa ci sono rabbie nel tuo passato che hai voluto buttare tutto dietro alla schiena facendo un piccolo passato in avanti non so che cosa è successo a un certo momento hai fatto un salto fuggendo via da questo passato che ti soffocava però poi in realtà è come se sensi di colpa pentimenti è come se volessi ritornare indietro c'è un punto di forza tra la tua mente e la tua anima quindi tu Anna Maria questa lotta tra la tua anima è come se non perché guarda non perché tu sia una doppia personalità però la mente pensa una cosa la tua anima ne pensa un'altra però è come se tu non l'avessi mai ascoltata la tua anima quindi lei è arrivata a un certo punto di questo stallo e poi pesante cabini pesantemente non escluderei che tu potessi avere anche problemi di circolazione alle gambe un po' gonfiore è come se avessi detto che ci sto a fare io se poi alla fine tu senti tutto hai molta percezione perché sei sensitiva sei luminosa come anima però poi fai a modo tuo questo è quello che mi dice la tua anima fai a modo tuo con la tua mente quindi lei è come se stesse facendo i crapricci non è sofferente è arrabbiata quindi questa arrabbiatura diciamo che crea questi disagi ti trasmette questa informazione di questo sentimento attraverso i tuoi problemi di salute Anna Maria questa essere in conflitto tra anima e mente ma è molto importante perché poi tra l'altro è come se ti dessi sempre un po' delle colme ti autocolpoevolizzassi quindi questo conflitto dicevo tra anima e mente però è molto importante perché tu ce l'hai avuto un po' da sempre questo Anna Maria in realtà ti porta a questa separazione allora inizia così iniziamo così Anna Maria inizia a scrivere il tuo nome tutto intero spero che sei qui e che tu mi stia ascoltando perché la tua anima l'abbiamo presa che è ancora disposta a essere rimessa insomma in gioco e quindi a calmare le sue rabbie le sue vibrazioni e a riequilibrare la tua cellula quindi Anna Maria inizia per il tuo cambiamento a scrivere Anna Maria tutto attaccato quindi facciamo fare pace alla tua mente e alla tua anima ma molto più importante iniziamo a far sì che la tua mente non sia così critica con te stessa quindi inseriamo in questa pace fatta Anna Maria tutto attaccato l'amor proprio quindi amati coccolati ma le coccole non sono andarsi a comprare il gelato coccole vuol dire avere stima di te quindi non rimproverarti e si felice di come sei di quello che è stato è stato quindi togliamo questi scarponi pesanti che ti fanno camminare pesantemente dandoti affaticamento anche energetico perché devi faticare e mettiamoci in una condizione scalza quasi proprio a toccare madre terra madre Gaia che ti energizia ti riequilibria e ti metti in centratura allora abbiamo fatto un lavoro molto importante Anna Maria io oggi ho un capello un ciuffetto ribelle poi mi farai sapere se ti senti così come lei mi ha fatto vedere camminare pesante rimuginare nel passato e autocolpevolizzarti e fare un po' di testa tua sai quando si dice fai di testa tua quindi creare più situazioni decisionali quindi eventi e trasformazioni dettate dalla mente non ascoltare la tua anima invece adesso abbiamo rimesso di fatto fare pace andiamo a vedere andiamo a vedere ancora e poi mi farai sapere allora Angelo Angelo Brustia vediamo mi sei andata via Angelo Brustia vediamo niente ve l'avevo detto mi fugge via vediamo se ritorno ciao Katia ci sei allora grazie grazie Angelo Custode di esserci niente stavo cercando Angelo Brustia ma mi esplodono cioè mi si fermano per un po' poi mi vanno avanti ti ritroverò fra un po' che giro allora Stefania Conti buongiorno periodo pesante c'è un messaggio per me grazie allora Stefania un messaggio per te vediamo un po' periodo pesante c'è uno scarico c'è la tua anima mi arriva così Stefania è un periodo pesante perché sei sopra una bussola sei sopra un cerchio come una bussola una bussola però che è un po' impazzita come se non riuscissi a trovare la direzione ecco sai la bussola comunque ti dà quella freccia rossa dove andare invece c'è un po' di disordine c'è un po' di troppe cose messe nel cassetto mettiamone così ti parlo per come la tua anima mi suggerisce troppe eventi emozioni parole non dette messe nel cassetto e lasciate lì sottovalutate forse quindi è come se tu Stefania avessi passato venissi da un periodo trascorso dove non sei stata così tanto attenta a tutto ciò che ti è circondato intorno anche un po' dimenticando te stessa quindi adesso sei in questo posto al centro in un cerchio con una bussola dove questa bussola questo ago rosso non riesce a fermarsi c'è da fare un po' di ordine ti porti dietro ecco hai detto un periodo pesante ti porti dietro troppe cose che non ti appartengono però è anche vero che manca un po' di attenzione devi mettere ordine lasci troppo a volte hai lasciato forse troppo andare delle cose che oggi ritornano nel presente e così no è come dimenticate in un cassetto devi ritornare lì ad aprirle e vedere che cosa è successo quindi un po' più di concentrazione è vero Stefania veniamo da un periodo dove ci hanno disorientato del tutto però adesso ormai è ora di rimetterci in pista con la fiducia ecco hai perso la fiducia la speranza verso il futuro diciamo che dobbiamo metterci ritirarci su quindi la tua anima facciamo così apriamolo questo cassetto di cose emesse cose eventi emozioni incontri messe lì magari con il dire ci penso dopo e invece iniziamo a metterle in ordine la A con le A la B con la B l'1 con la 1 facciamo un esempio quindi creiamo l'ordine affinché tu in questo ordine possa venirne fuori periodo pesante guarda questa bussola mi sta facendo vedere con tutte le ramificazioni della bussola che è un po' di disordine in amore in economico con le relazioni non chiuderti in te stessa perché questa chiusura in te stessa ti porta ancora di più ad appesantirsi quindi mettiamo in ordine apriamo questo cassetto mettiamo tutto in ordine sopra la scrivania riaccendiamo i colori della tua casa dei tuoi contorni quindi del tuo tempio e rimettiamoci in forza la speranza dovrai guarda fai una cosa Stefania intanto che abbiamo dato questa buona interpretazione e comunque abbiamo anche lavorato sulla tua anima come sapete l'acqua si informatizza inizia a mettere in una bottiglia d'acqua fiducia e speranza nel tuo futuro quindi buona leggerezza fiducia e leggerezza e speranza perché la speranza comunque ci fa sognare perché noi progettiamo delle cose e speriamo che si realizzano e poi la bevi quindi aiutiamoci anche con quest'acqua informatizzata perché manteniamo stabile i nostri pensieri anche nell'informare il nostro corpo prima abbiamo visto con l'altra ragazza che se anima sta male poi informatizza le cellule e quindi ci fa sentire a disagio fisicamente manifestando delle malattie quindi Stefania fiducia verso il prossimo però mi raccomando attenzione e questa vita ci mette a dura prova non possiamo deconcentrarci dobbiamo viverci in un modo cosciente e consapevole non solo nella spiritualità dobbiamo metterci tutto anima e corpo ricordiamoci viviamo questa vita anima e corpo perché è qui che siamo venuti a fare esperienze nella materia quindi non dobbiamo essere con la testa in aria ma non dobbiamo essere neanche troppo macchinosi quindi meccanici o materici dobbiamo fonderci tra lo spirituale tra il razionale e tra l'animico affinché viviamo a tutto tondo e saremo così capaci di modificare e creare come architetti la nostra vita il nostro mondo allora rosimiele grazie comunque di essere qui in mia compagnia e quindi magari se mi scrivi un feedback rosimiele ciao meri ho problemi con mia figlia se mi puoi aiutare grazie mille rosi oggi le mamme oggi prendiamo le mamme allora ho problemi con mia figlia se mi puoi aiutare grazie mille senti rosi tua figlia mi arriva subito qua sei molto connessa con lei anche se lei però è così è un po' arrabbiata è un po' come se non le andasse bene niente vediamo un po' c'è non c'è solo silenzio c'è proprio sai quando adesso non mi viene la parola no? ti si rivolta no? un po' contro quindi vediamo un po' che cosa è c'è con tua figlia senti lei ha problemi a relazionarsi però mi arriva l'immagine rosi mi arriva l'immagine di un uomo probabilmente il padre è come se non ci fosse equilibrio dentro la connessione animica tra il maschile e il femminile questa rabbia che lei butta fuori i capricci sai perché ti dico rabbia mi arriva intanto che parla con alta voce però che sbatte proprio questi piedi sai come fanno i bambini capricciosi ma non vedo che lei è una bambina c'è qualcosa con il maschile e ovviamente sta lottando contro la sua femminilità i suoi ferormoni insomma l'essere donna l'essere ragazza e non riesce ad equilibrare la connessione con il maschile non so che cosa è successo con suo padre non ci sono parole gratificazioni accoglienza ma lei è come se fosse cresciuta e non ne trapelasse questo disagio forse non lo ha consapevolmente mai neanche elaborato ma diciamo che questo nucleo della famiglia tre adesso non so se ci sono fratelli non c'è armonia non c'è armonia ed è come se lei fosse arrabbiata con questo ecco perché mi arriva un uomo quindi magari fosse anche un fidanzato però l'ha disequilibrata questa 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 tua figlia quindi lei questa rabbia ce l'ha con questo suo interiore maschile che poi magari manifesta anche all'esterno con i suoi compagni con il suo quotidiano non lo so dovrei vederti Rosy parlare di sapere che cosa è successo con suo padre che cosa se siete divisi se siete uniti se tuo marito magari ha un pochino frenato le sue manifestazioni la sua presenza perché lei ci tiene molto quindi è un po' così facciamole facciamo questo guarda Rosy mettiamovi a tavola sapete come facciamo a Natale come facciamo anche tutti i giorni ma perché Natale a tavola una tavola imbandita perché a Natale quando noi prepariamo queste tavole c'è un po' di tutto e quindi Rosy mettiamo di nuovo tua figlia a tavola in una tavola imbandita di tutto delle vostre fatiche quindi magari giustificare le vostre assenze che i figli magari non comprendono a volte ma mettiamoci ancora anche amore famiglia mettiamoci gratificazioni mettiamoci tutti i sentimenti impositivi affinché sulla bilancia quindi su questa tavola risplenda il meglio e per tua figlia faccia in moda che per tua figlia tutte le emozioni distoniche nella sua anima nella sua mente possano dissolversi con questi alimenti con queste emozioni in questa tavola quindi una comunione familiare in questo incontro nella tavola imbandita di positività Rosi poi magari mi dirai che cosa ti è arrivato problemi con il maschile scusatemi ragazzi però queste cappelle oggi al vento mi vanno un po' di qua di là grazie Rosi per essere stata qui in mia compagnia poi mi farai sapere Bonomo Maria vieni qua mi fai sapere la tua anima senti Bonomo mi sei fuggita non riesco più a trovarti però te lo mando un messaggio veloce senti Bonomo la tua Bonomo scusa che ti chiamo di cognome ma perché allora Maria senti che cosa mi arriva la tua anima è piegata un po' dal sensazione in cui lei è stata per molto tempo di sofferenza quindi adesso è un po' diciamo fa fatica a rimodellarsi nella situazione emozionale di benessere non avere fretta c'è nella tua mente il desiderio di risolvere un po' la tua situazione fisica del quotidiano troppo velocemente devi dare tempo ad anima che si abitui e abbia fiducia che le cose stanno cambiando in meglio quindi riforziamola fortifichiamola facciamo in modo che la tua anima si energizzi al massimo affinché si metta in uno stato di sicurezza di tranquillità e di pazienza serve quella alla tua anima quindi medita io so che tu fai tanti lavoretti spirituali medita affinché vedrai che le cose piano piano ritornano non come prima ovviamente perché io so i tuoi disagi però si rivolgeranno al meglio scusate ragazze mi impapino ma sto andando di corsa perché siete tante e vorrei rispondere a tutti allora Anna Maria Dolores per un periodo di solitudine per me è un periodo di solitudine di mancanze anche problemi di salute e di dolore grazie se mi rispondi e mi aiuti Anna Maria Dolores De Muro un periodo di solitudine che peccato questo bel periodo d'estate la solitudine allora Anna Maria vediamo un po' questo periodo di solitudine senti la tua anima mi arriva un po' appesantita come se diciamo che il periodo di solitudine è stato un po' non voluto però è come se degli eventi ti hanno portato a questa solitudine no? il desiderio di staccare degli eventi ti hanno portato il desiderio di staccare con le persone le anime le amicizie che non ti davano molto ma è come se tu Anna Maria avessi fatto un periodo di lavoro introspettivo fortificandoti andando bene quindi in comunicazione con la tua anima poi a un certo momento è come se avessi mandato tutto all'aria basta non c'è stato hai iniziato qualche cosa un percorso con tanto entusiasmo poi ti sei ti sei bloccata a un certo momento è come se avessi perduto la la fede mi viene non la fiducia la fede in tutto ciò che tu sentivi questo periodo di solitudine e problemi di salute a un certo momento è come se fosse venuto un sentimento dimenticato perché tu hai corso hai lottato per la tua vita sempre di corsa così e poi è venuto fuori guardandoti indietro un sentimento di poca autostima Anna Maria è vero non ti senti mai bene dove sei un po' come se non ti sentissi mai non ti fossi mai sentita di appartenenza però questo periodo di solitudine che tu hai scacciato perché per tutta la vita hai fatto con curiosità una vita molto in mezzo alla gente molto attiva ecco più che in mezzo alla gente a un certo momento ti sei fermata quindi Anna Maria stai attenta per questo periodo di solitudine perché è come se ci fossi voluta inconsapevolmente mettere tu in questa situazione problemi di solitudine però li hai vissuto nella tua infanzia perché io nella tua casa natale quando eri piccolina ti vedo seduta in terra giocare un po' da sola con tante persone che camminano nella tua casa ma come se tu fossi stata invisibile poi quando sei cresciuta nella tua adolescenza sei venuta un'anima ribelle ti sei ritirata su adesso è come se un po' ritornata bambina ti sei ancorata a quel ricordo però ormai superato quindi fidati di te del tuo sentire aumenta la tua autostima ma hai bisogno di cambiare hai bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita perché questo passato non così remoto di stagnazione ti ha fatto smarrire cambiamento Anna Maria per te cambia non è che tutti possiamo prendere andare in un'altra città ma puoi muovere le cose della tua casa quindi vivici nel cambiamento se il divano sta in un posto cambialo se non puoi spostare il divano cambia la lampada magari che è più semplice i colori del cuscino anche in cucina se le sedie le tieni in un modo hai bisogno di riattivarti ma di rimetterti tu nella vitalità perché inconsapevolmente giorno dopo giorno c'è una energia che si stava spegnendo quindi automaticamente andando dietro a questa lasciarsi andare hai innescato dei problemi di salute e sei entrata nel periodo di solitudine riattivati Anna Maria hai una bellissima energia frizzante attiva sei andata sempre di corsa nella tua vita quindi non fermarti adesso grazie di essere qui e spero di esserti stata di aiuto poi magari se mi scrivete se vi siete sentiti affini sarò contento Romina Laconi salve Mary mi piacerebbe avere una lettura dall'anima è un periodo molto sofferto bene sono contenta di essere qua con voi di potervi aiutare almeno per quel poco riattivare la coscienza animica e rimettervi in pista sono contenta di essere qui ad aiutarvi non sono contenta che state magari in un periodo di sofferenza allora Romina Laconi mi piacerebbe avere una lettura dell'anima è un periodo molto sofferto allora senti Romina vediamo un po' la tua sofferenza è come la tua anima mi arriva qua quello che mi dice che non ti senti amata a volte questo non sentirsi amata ci mette in una condizione di paura quasi pensare che noi abbiamo bisogno e non lo vogliamo ammettere di essere amata quindi andiamo un po' controcorrente allora non dobbiamo elemosinarlo l'amore però diciamo dobbiamo pretenderlo ma perché pretenderlo se non ne amiamo noi per primi se per primi non ci amiamo noi quindi Romina Laconi la cosa diciamo il messaggio che mi arriva dalla tua anima che mi ha detto subito non mi sento amata il messaggio il consiglio diciamo è di iniziare di smettere in un certo senso di guardare all'esterno se tizio caio sempronio mi ha ti amano ma iniziare ad amarti tu questo è molto importante è vero non c'è stato così un'esplosione d'amore intorno a te mamma papà i fratelli la scuola ma è come se tu fossi molto condizionata dalle parole dai giudizi dell'esterno come se volessi sempre il desiderio di essere accettata tu vai bene così Romina sei una bellissima anima la tua particolarità è la purezza tu è come se fossi un'eterna bambina porti con te la semplicità la purezza non vergognartene ma non vergognarti neanche di avere il pensiero e il desiderio di essere amato perché noi scendiamo proprio qui per avere questa manifestazione nella materia di amore noi siamo amore puri incondizionati viviamo vibriamo in questa musica quindi riattiva questa tua melodia questa tua purezza riconnettiti con la natura senza vergogna e senza il pensiero e il timore del giudizio altrui cammina fra la gente sicura di come sei proprio nell'amor proprio tu hai un'anima candida mi arrivi vestita di bianco ma tutto dove cammini è tutto bianco quindi coraggio se magari ti sei sentita un po' non vista o abbandonata o non considerata facciamo così immaginiamo di cambiare pagina e magari mettere scritto nella nuova pagina che tutto andrà bene che tutto sarà perfetto perché sarai tu la protagonista e sarai l'artefice di tutto ciò che sarà e riceverai potere personale quindi Romina mi verrebbe da dirti di specchiarti di più come tante volte dico ma non specchiarsi per vedere se il nostro abito non è acciaccato e ci sta bene specchiarsi per renderci conto dell'amore che noi dobbiamo avere in primo per noi stessi nel momento in cui noi ci amiamo senza ego arriverà anche la considerazione e l'amore per te non so come mai abbiamo parlato molto di amore ma probabilmente l'anima la tua anima mi ha portato in rilievo questo non sentirsi amata perché è in questa sofferenza che tu stai vivendo arriverà non è vergognati di come sei sei una bambina in eterna purezza nell'ingenuità ma è molto bello essere puri perché nella purezza c'è la verità quindi tu portala in un vassoio d'oro mettiti proprio senza ego proprio con l'amore con la semplicità con quella purezza che ti appartiene e cammina fra la gente ti ringrazio Romina solo con questa comunicazione noi abbiamo informato e abbiamo attivato dei cambiamenti nella tua anima quindi vedrai ne sono certa che ti rimetterai sollevata nella tua linea temporale futura Alessandra ciao quindi Romina e grazie di essere stata qui vediamo perché mi è fuggito Sabrina Pelosine vengo pure da un periodo difficile a caso di un mio ex narcisista vorrei un messaggio per l'amore grazie allora questi uomini sono veramente particolari ma non sono tutti così quindi diciamo che in un certo senso dobbiamo metterci in una condizione di non sentirci con vergogna bisognosi di amore perché noi siamo qua per sperimentarlo come dicevo anche per adesso non mi viene per la ragazza di prima quindi Sabrina periodo difficile a caso di un mio ex narcisista diciamo che tu mi arrivi come se portassi dei fili dietro con te dal passato molto importanti allora Sabrina sei molto appesantita da tutto ciò che tu ti trascini dal tuo passato è come se portassi con te il ricordo della relazione con mamma faccio un esempio raccordo il ricordo della relazione con papà ma faticati comunque non vissuti al massimo con i fratelli tutte le esperienze anche lavorative quindi in un certo senso l'anima di chi ti incontra è come se nel momento in che ti incontra sentisse un'energia pesante un'energia che ha bisogno sembra sembra che tu ti appoggi all'altra persona questo narcisista perché non è neanche l'unico il primo è come se scegliessi dal mazzo hanno un po' tutte queste caratteristiche gli uomini che incontri ma non non è che li fai diventare tu ma è come se loro volessero pieni di ego il narcisista è pieno di se stesso non prendersi carico di tutto ciò che tu porti con te io sto leggendo le anime non sto leggendo la mente Sabrina la mente del tuo ex compagno quindi prima di incontrare un'altra persona perché noi nell'incontrarci i nostri amanti i nostri amori che cosa dobbiamo fare non dobbiamo appoggiarci a loro o entrare in loro noi dobbiamo affiancarci a loro quindi essere pensare di essere un valore aggiunto quindi via tutti i carichi pesanti oppure li teniamo nella nostra stanza come le faccio a volte però non sovraccarichiamo l'altro e viceversa dobbiamo incontrare così incontreremo e dobbiamo anche saperlo scegliere un'altra anima che non porti i suoi carichi che siano tutti questi sentimenti di bassa vibrazione egoismo narcisista perché poi egoisti e narcisisti sono anche aggressivi quindi tanto meno anche questi sentimenti di bassissima vibrazione l'aggressività quindi prima di rimetterti in pista Sabrina ti consiglierei di iniziare a staccare questi fili non portarti dietro i pesi del passato le esperienze del passato i dolori del passato portati le gioie quindi invece che corde con carichi pesanti facciamo queste immagini Sabrina corde con palloncini quindi pensieri ricordi vissuti leggeri ritorniamo un po' bambini parlando di bambini prima perché affinché noi possiamo essere nella solarità nella leggerezza nell'allegria e attirare come un magnete persone simili a noi con cui noi poi ci condivideremo il nostro viaggio nella vita nell'amore un viaggio di vita di esperienze di curiosità e poi c'è un'altra cosa Sabrina che mi sta facendo vedere perché è arrivata tu sei molto anima comunque mi piace perché sei ci sei già questa ragazzina ma che vorresti portarti tutto i carichi pesanti e i carichi leggeri c'è un'altra cosa tu sei molto attiva mentalmente hai una una mente bella dinamica quindi diciamo che non dovrai nascondere anima e attivare la tua mente nella connessione anche con le amicizie al femminile pretendi proprio di incontrare una persona con cui puoi essere anima e puoi anche comunicare perché tu entri in connessione ti piace leggere i libri ti piace sapere sei curiosa quindi di solito i narcisisti parlano di loro non parlano di tutto ciò che invece ti affascina nel mondo quindi tienila in considerazione anche questa cosa il tuo mentale quindi la tua mente il tuo essere connessa con questo mondo come dicevo prima porta questi palloncini leggeri e porta in questa vita in questa linea temporale presente ed equidora temporale e futura tutta di te la tua bella mente perché sei una mente complessa ma particolare come si dice insomma emozionante e porta la tua anima bambina con te sabrina complimenti sei una bellissima anima quindi dati valore vibra ad una vibrazione qualsiasi colore che tu possa scegliere affinché questo bellissimo colore come un magnete attiri al maschile lo stesso colore quindi un'anima che sia in feeling con te su tutte le forme va bene mentale animico e spirituale tu poi si chiacchierina ti piace parlare ma è una risata molto bella Sabrina quindi non è non avvilirti perché nel momento in cui farai questa introspezione questo lavoro di stacco da questi pesi di modifica nella leggerezza in cui sei tutto andrà meglio allora andiamo avanti Simona Quei ciao Mary anima qualcosa di urgente da dirmi che non riesco a cogliere grazie allora ciao Mary anima qualcosa di urgente guarda Simona tu sei molto integra in equilibrio vai anche di corsa anche se sei qui in anima qualcosa di urgente non c'è un qualche cosa diciamo da comunicarti che non sei già molto attenta mi arriva solo questa parola quindi poi tu coglila magari con il tuo quotidiano e portala dove serve l'azione è come se io già ti vedo che tu corri e fai però è come se devi reagire probabilmente c'è un contesto di un evento di un di un vissuto dove stai vivendo un pochino al passivo invece devi reagire devi parlare aprire aprire questo quinto chakra però attenzione modula tutta questa reazione ecco non essere istintiva ci sono c'è un in una situazione c'è qualcosa che lo vivi come passivo invece devi essere reattiva ma reattiva con dolcezza quindi probabilmente c'è questo una reazione cioè in un settore della tua vita come ti stai lasciando lo lasci fare lo lasci indietro invece devi reagire prenderlo un po' il toro con le corna però comunicazione leggera e dolce non so con chi ma tu pensa magari e portalo nel tuo quotidiano allora andiamo andiamo avanti vado sempre un po' a random no perché se no allora Donatella Castelletto Mary io sto facendo un percorso spirituale studiando sono nel percorso giusto allora Donatella Castelletti Mary sto facendo allora quando noi entriamo nel nostro risveglio questi sono i passaggi che dobbiamo fare cioè dobbiamo informarci e fare questi percorsi spirituali allora sì Mary sta facendo un percorso spirituale vediamo un po' Donatella tu ci sei però è come se ci fossero dei blocchi ci sono delle paure guarda Donatella questa spiritualità ti appartiene proprio è tua perché mi porti indietro in un tempo anima mi ci ha portato dove mi sei arrivato proprio con un saio no sei quei frati di una volta che hanno le braccia dentro a queste maniche della loro tunica quindi è tuo cioè ti appartiene questo percorso spirituale questo percorso spirituale che tu fai per la tua rinascita e per la per la tua crescita dovrà però e penso che sia essere portato per aiutare le persone la gente tu hai molto feeling con i giovani con le persone in difficoltà non malate proprio perché non saresti un medico però ti appartiene non rinnegare però quello che mi sta dicendo la tua vita quindi la tua vita coniugale la vita di coppia come hai invece sacrificato in quella vita dove eri un frate maschio quindi porta un po' tutto con te cioè porta la tua famiglia in quello che tu andrai a fare ti appartiene non demordere e mi viene da pensare in grande perché pensa in grande Donatella perché ti vedo proprio a portare beneficio spirituale animico a molte persone quindi sì sei nel percorso giusto credi in ciò che fai però porta tutti con te non sacrificare figli se li hai famiglia coppia non so se sei giovane Donatella quindi porta dietro tutti con te perché ti appartiene questo mondo spirituale energetico usa anche dei nuovi strumenti quella volta da frate magari usavi le parole eri molto collegata alla religione oggi puoi usare la tua energia invece che magari solo la religione ma anche tu hai una grande capacità hai una bella voce hai una grande capacità comunicativa quindi puoi usare comunque ti dicevo anche degli strumenti per questo percorso che siano anche strumenti energetici che ti appartengono che tutti noi abbiamo quindi potere energetico di guarire nelle tue mani pranoterapia reiki queste diciamo indicazioni qua brava Donatella mi piace molto mi piacevi come come frate mi piace oggi come sei da Donatella vivilo appieno non arrenderti perché saranno a volte ci saranno dei periodi di sconforto ma non arrenderti niente oggi la mia i miei cappelli sono al vento allora andiamo avanti Anna Maria Squeri Gianni ciao Anna Maria che onore averti qui ti ringrazio tanto vi saluta e noi ovviamente ti salutiamo tutte allora andiamo avanti Ezia De Andres ciao Mary un messaggio di anima per me Ezia De Andres allora Ezia tu sei in un momento un po' diciamo non di sconforto però è come se mandassi tutto all'aria è come se avessi un po' chiuso avessi chiuso il mondo un po' tutto fuori Ezia è come se non sei stanca energeticamente ma sei stanca di vedere questo mondo che non funziona sei molto riflessiva Ezia complimenti sei una donna molto molto riflessiva però diciamo che mi viene questo da dirti Ezia perché non ti appartiene questo mandare un po' tutti a quel paese stanca e chiuderti un po' quindi mi viene da dirti questo sai noi lo dico spesso entriamo in questa reincarnazione quasi come se fosse in Luna Park quindi pieno di milteplici giochi non li hai ancora fatti tutti questi giochi quindi rimani in questo bellissimo Luna Park e divertiti insieme alle persone l'isolamento è se non ti appartiene quindi se hai dovuto o hai deciso di eliminare una cerchia di persone non sentirti stanca e demoralizzata riattiva e riapri quella porticina anzi la riapriamo questa porticina bianca per incamminarti in un altro gioco del Luna Park dove incontrerai amici amici colleghi che sono affini a te è vero tu sei molto particolare mi arrivi come se fossi una mosca bianca no non ti senti di appartenenza ma è proprio quello il bello l'essere differenti l'uno dall'altro quindi tu porta il tuo colore insieme in dove ci sono altri colori affinché il tuo mondo possa ritornare con i colori dell'arcobalena Elzia ti ho parlato di tutto questo perché è come se la tua anima mi fosse arrivata in un momento dove c'è un po' di sconforto un po' di ritirata e invece sei un'anima che è bello averti a fianco averti è bello averti come amica come conoscente vederti tra la gente quindi mi dice questo se c'è un cambiamento che hai deciso di lasciare andare qualcosa che non andava più per le tue corde non arrenderti però c'è un'altra porta in questo luna park dove ci sono altri giochi e continuo a giocare quindi è quello che mi dice la tua anima spero di esserti stata di aiuto e che il tuo messaggio lo abbia sentito a fine allora ragazzi qua è iniziato a piovere c'è un rumore di pioggia non so se vi arriva ma io sono nella stagione delle piogge mentre voi siete nel caldo allora Anna Maria Anna Maria andiamo avanti io ho un po' meno minutini allora Anna Maria ti stavo leggendo mi hai fuggito allora vediamo Irene Longo niente Anna Maria poi ti risponderò a riscrivermelo che ti risponderò nei messaggi Irene Longo mi piacerebbe ricevere un messaggio d'anima in questo momento particolare della mia vita grazie allora senti Irene la tua anima è molto attiva mi è arrivata subito qui con un'immagine bizzarra se vogliamo dire hai un mazzo di chiave e stai girando questo mazzo di chiave come se non ritrovi e non conosci non sai quale chiave prendere c'è indecisione ma c'è hai questo mazzo di chiave e quindi c'è il desiderio di cambiare parlavamo di porte probabilmente sia ancorata la tua anima a parlarmi di chiave allora c'è un cambiamento non pensare che tu non sappia quale chiave prendere in questo in questo porta chiavi perché tu lo sai già non farti condizionare dagli altri che ti mettono solo indecisione segui il tuo istinto guarda la tua anima è molto precisa non mi meraviglierei che tu fossi ordinata precisa e anche programmatrice nella tua vita perché la tua anima mi parla proprio in maniera selettiva e dinamica e concentrata quindi il messaggio in questo momento particolare della mia vita in questo momento c'è una decisione da prendere credi in ciò che fai in te stessa e non lasciarti condizionare dagli altri mi arriva questo senti Irene non so come è stata la tua vita nel passato ma tu hai una caratteristica hai una buona fortuna che ti accompagna è come se tu fossi nata con una stellina un angioletto chiamiamolo abbiamo tutti però che ti segue sempre e ti consiglia un consigliere tuo proprio personale a volte però tu non lo ascolti quindi ritorno come avevamo detto all'inizio a un'altra fai un po' di testa tua invece tu hai molto potere personale Irene quindi quando senti qualcosa di pancia il tuo istinto chiamiamolo così fidati perché sei nella strada giusta e questa stellina di buona fortuna che sei tu comunque ti proteggerà sempre ma ti si manifesterà nel tuo cammino questo è molto importante quello che dovrà essere un po' allontanato i consigli vanno sempre bene perché ti ampiano magari le prospettive però non è condizionanti quindi non fatti condizionare nella decisione del cambiamento dagli altri perché tu sai cosa fare e adesso facciamo questo Irene lo mettiamo subito in atto in questo mazzo di chiavi con molteplici chiavi facciamo proprio tu prendi quella giusta prendi una bellissima chiave dorata mettiamola dorata luminosa non un dorato prezioso un dorato luminoso che aprirà come un passpartout tutte le porte che tu interprenderai nel tuo cammino senza condizionamenti di sorti le parole i giudizi i consigli altrui vanno sempre bene magari ne avessimo tanti tutti quanti ma semplicemente perché riempono il nostro sacchetto di prospettive ma non dobbiamo mai farci condizionare la strada del cuore non è mai sbagliata io dico la pancia mettiamoci anche il cuore e quindi credi in te stesso in ciò che fai comunque c'è da fare questo cambiamento perché in questo momento solo così potrà riprendersi o riprendere tu potrai riprendere in mano le redini della tua vita allora ragazzi ci siamo Alessandra Serra che piacere vederti che blocchi senti nella mia vita allora ragazzi è arrivato il tempo io sono stata qui felice di essere con voi in questa domenica di estate da me piove allora Katia Silvestri che bello ti do tanto bacio anch'io e ti abbraccio forte sostenendoti ti sosteniamo tutti in questo periodo particolare Laura Marotta allora Patrizia ne siete stati tanti io non sono riuscita a rispondere a tutti ci vediamo fra due domeniche sarò qua e poi magari rileggerò se vi siete sentite affine con le cose che vi ho detto quindi spero di esservi state di aiuto io vi bacio vi abbraccio e come sempre mando i miei saluti un po' a tutti dicendovi voglio bene vi amo e vi adoro ognuno prenda il sentimento che le appartiene e che desidera buona domenica a tutti buona estate io sarò in autunno in Italia per una vacanza chissà che con qualcuno possa incontrarvi mi fermerò a Roma qualche giorno sarò proprio dalla mia amica Katia quindi spero che qualcuno nelle vicinanze possa incontrarli a voce di persona e quindi perché no parlare proprio di queste cose rispondere in presenza ai vostri messaggi vi do un bacio e di nuovo vi saluto grazie Katia che mi sei stata a fianco come mio angelo custodio e grazie alla famiglia di Bridge of Light ci vediamo fra due domeniche vi voglio bene ragazze grazie a tutti grazie a tutti